L'errore della Valle 5 su 11 da 3 per la Reggiana, siamo al 45% c'è un dato piuttosto significativo che riguarda la poca precisione della Dinamo da 3 tra gara 5 e gara 6 Stefano siamo a 2 su 33 dall'arco per una squadra che invece per tutta la stagione ha dimostrato di vivere del proprio diro da 3 punti una filosofia che poi ha abbandonato contro Milano